vediamo qual è la gerarchia partiti cavalli della seconda corsa parte bene Miami Breeze che si arrocca subito in corda con la giubba rossa e le maniche blu più al centro della pista troviamo Pondell'Alma il favorito con la giubba interamente celeste e fialte galoppa più all'esterno di questi con la quarta posizione occupata da Galassia 400 metri percorsi in questo ordine con in vantaggio adesso Pondell'Alma che ha superato di slancio Miami Breeze si è arroccato in corda ha ripreso vigore nella sua azione anche fialte che adesso va subito a metter pressione su Pondell'Alma che per ora ha risposto presente a tutti gli attacchi è sostenuto Miami Breeze alle spalle di questi c'è anche Galassia che è un pochino più discosta il paletto dei 400 che arriva incombente ancora di dentro Pondell'Alma è sostenuto a braccia e fialte che adesso deve tirare fuori qualcosa in più per onorare il suo loro di favorito Pondell'Alma all'interno e fialte all'esterno 200 metri da percorrere ancora questo il tema della gara e fialte prova ad accelerare all'esterno di Pondell'Alma che comunque risponde ancora presente un bel duello prova ad aggiungersi anche Galassia ma ormai nel tratto conclusivo Pondell'Alma resiste ad e fialte e poi Galassia che finisce bene al quarto tentativo si toglie la qualifica di Maiden Pondell'Alma figlio di Dream Ahead 5.50 la quota conclusiva qui sul campo Cristian di Napoli in sella per il training di Luigi Di Dio e colori della scuderia dell'avvocato battuto e fialte e poi è finita bene a dir la verità anche Galassia che a un certo punto sembrava in difficoltà e poi sul calo dei due che se ne erano date di Santa Ragione arriva al ridosso dei primi comunque 5-1 e poi 2 l'ordine d'arrivo ufficioso numerico e probabile della seconda corsa tre cavalli in diagonale ma vince Pondell'Alma è tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti